Non chiediamo il voto ma la partecipazione. L'onorevole Roberto Ficua d'Altamura per un comizio a sostegno della candidatura a sindaco di Pietro Masi spiega perché votare 5 stelle avendo il coraggio di dire no alla tentazione tipica delle elezioni amministrative, votare amici e parenti che si nascondono dietro le liste civiche. Spesso ormai hanno vergogna anche di presentare i simboli dei partiti e le persone dei partiti si nascondono si nascondono dietro le liste civiche. Perché votare 5 stelle? Perché significa votare delle persone oneste che in modo onesto amministrano i nostri beni comuni. Oggi abbiamo visto che tutte queste persone non sono riuscite a portarci fuori dai problemi perché probabilmente anzi sicuramente sono loro stessi i problemi quindi dobbiamo uscire dall'incantesimo e votare un progetto culturale totalmente diverso che rimette al centro l'uomo, le energie, l'etica nella pubblica amministrazione. Piano urbano di mobilità, strategia rifiuti zero che significa recupero e riuso prima che riciclo spiega il candidato sindaco e bilancio partecipato perché per cambiare ci vuole coraggio. Gli impresentabili non sono una novità né una notizia secondo Fico. Sono 30 anni che si presentano impresentabili nel nostro paese e anche in Puglia. Adesso scoprono gli impresentabili quindi la cosa che dico è che è assurdo che una commissione antimafia non dica immediatamente i nomi delle liste dove sono inserite queste persone in modo da non votarle. Se le commissioni parlamentari non ci difendono qual è il senso del Parlamento?